Gli amici di sempre, gli abbracci più lunghi, la musica, i libri, aprire i regali, i viaggi lontani che fanno sognare, i film che ti restano impressi nel cuore, gli sguardi e quell'attimo e verses 2, per il nostro giro, il nostro spirito, il nello a lavorare in es Ω伝essi qui le Grazie a tutti. Katia, è molto divertente? È molto divertente? È molto divertente. È molto divertente. È molto divertente. È molto divertente. E con la famiglia. E con la famiglia. È molto divertente. È ancora troppo. Non è così stile. Non è così stile. Oh, è davvero in questo. È molto divertente. È molto divertente. È tutto qui qui. C'è molto divertente. C'è l'aggislazione. È ancora un punto. Ci sono ancora di là. È molto divertente, right? È così, è così. È così. È così. Oké, abbiamo avere arruginei. E' vero. Ma è molto più. E' vero. E' vero. E' vero. Viste te l'ho, Caroline? Non? E' vero. È molto divertente. Leuk, le cose cose, il gusto di mangiare, un buit spazio, di più grande, tutto stesso. E' un'azienda? No. Doe il niente o non ? Poggiare. Ma, non. Non, non. E' dunque. Ma che fai fai fai? E' un'azienda. E' un'azienda. Faccio. Ah, è troppo troppo. Troppo troppo, sì. Voi? Sì. 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 Do you like me? Da there's a car. All bound. Good idea, it's all. caring Sunday. Do you like we got a second door? Yeah. Nice to meet you. Hey friends, you and I think you will be okay. All of your friends. Come on, I hope you haven't. Who are you? Dames of Jazease, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.